Lui aveva parlato con il direttore per l'anno futuro, poi è arrivato Massimo, ha fatto molto bene quindi da parte nostra c'è stata l'idea di confermarlo e penso che abbiamo fatto anche bene e quindi magari ci può essere l'illusione, però con il mister io non ho avuto mai nessun problema e come ho detto prima in conferenza ci siamo trovati veramente con uno sguardo e abbiamo trovato l'accordo. Qualcuno dice che questa sia stata, Presidente Sebastiani, anche una mossa in funzione dell'ambiente, del pubblico per cercare di riconquistare i tifosi? Ma qualcuno qui dice troppe cose, purtroppo qualsiasi cosa tu faccia c'è sempre un retropensiero che a me non mi riguarda, non mi tocca se ho preso Zeman perché abbiamo le nostre idee le portiamo avanti, se no prendevo un altro ero uguale, se no mi stavo come stavo e non avevo nessun problema quindi qui dobbiamo smetterla di pensare sempre a che cosa c'è dietro, cominciamo a guardare avanti che forse facciamo meno danni. Il mister giustamente essendo stato contattato e conoscendo me ha chiesto che idea avevo io perché è chiaro che se fai un programma con una persona e poi tu vai via probabilmente una persona normale si preoccupa e così ha fatto il mister. Io gli ho ribadito quello che vi ho detto prima a voi, cioè che io sono qui al posto mio se c'è qualcuno che possa fare meglio e quindi fare ancora di più il bene del Pescara io sono a disposizione se non c'è basta con le chiacchiere e bisogna lavorare. Zeman è a Pescara da poche ore però si vede già il cambiamento, il poggio degli ulivi dopo due mesi riaperto al pubblico tifosi che sui social ovviamente hanno accolto favorevolmente l'arrivo di Zeman e anche la squadra vedendo l'allenamento dalla tribuna sembra rinfrancata dall'arrivo di un nuovo tecnico. Sai quando c'è un cambio c'è sempre una scossa, si dice sempre bisogna cambiare per dare una scossa io non penso che i ragazzi siano contenti che magari l'avventura del vecchio allenatore sia finita così però è evidente che qualcosa bisognava fare, è stato fatto e adesso mi verrebbe da dire sono fatti loro.